Ciao a tutti, io sono Ardok, mi occupo di illustrazione e di grafica. Sono qui per parlarvi del corso di Magician di Marco Silveri, però prima voglio raccontarvi come sono arrivato io, come sono approdato al corso di Marco. Tutto è iniziato qualche anno fa, stavo passeggiando per le vie del centro quando sono passato accanto a una libreria dove c'era in bella mostra, in vetrina, un libro di giochi di prestigio. Ho sentito l'impulso fortissimo di prendere questo libro e l'ho portato a casa. Quel libro è rimasto sullo scaffale per un anno, un anno e mezzo, mai aperto. Poi un giorno, non so cosa mi ha preso, però ho preso il libro e ho iniziato a sfogliarlo. E l'ho trovato appassionante, tanto che mi sono messo a studiare magia attraverso i libri. E così è passato un altro anno, ho imparato le basi, però c'era un problema. E che essendo da solo diventavo autoreferenziale, quindi non avevo mai un riscontro oggettivo del mio livello di crescita. E quindi ho iniziato a guardarmi in giro, ad esplorare. Ovviamente ho guardato anche sul web, dove ho incontrato, ho visto diversi corsi, videocorsi di lezioni di prestigiazione e magia. E alla fine ho deciso per quello di Marco. Cosa ha di speciale il corso di Marco rispetto agli altri? Beh, intanto Marco. Marco è una persona affidabile e soprattutto un ottimo divulgatore. Le sue lezioni sono sempre molto chiare e molto precise. Ma soprattutto Marco è una persona su cui puoi contare. Nel senso che quando, se qualcosa non è chiara, Marco ha creato questa bellissima cosa che è l'appuntamento fisso ogni settimana, solo per gli iscritti, alla Question and Live. Ovvero ci troviamo tutti quanti su Zoom e lì ognuno pone le sue questioni, i suoi problemi. Ovviamente nel campo magico stiamo parlando di prestigiazione. E Marco aiuta gli iscritti a superare le difficoltà nel passaggio in un movimento o a capire il principio matematico che c'è dietro un gioco di mentalismo. E devo dire che la differenza la fanno, oltre che la persona, la fa proprio questo appuntamento fisso che per me è dichiarato un momento di svago perché comunque tra tutti gli altri iscritti ormai si sta creando un bel rapporto ed è bello rivedersi anche ovviamente in digitale, su Zoom, perché siamo tutti molto distanti. Però è nato uno scambio di opinioni, di consigli, di suggerimenti che ha trasformato questo momento d'incontro in un momento di grande crescita. Spero di averti aiutato con questa mia testimonianza a decidere per il corso di Marco che ripeto è un corso molto valido e praticamente infinito. perché non si smette mai di imparare. Ciao a tutti!